Vie Crucis, processioni del venerdì santo e Sacri Misteri, la Pasqua in Irpinia entra nel vivo con i tradizionali riti religiosi che ogni anno si rinnovano grazie alle associazioni e alle popolazioni locali. I riti pasquali in Irpinia vengono tramandati di generazione in generazione come un tesoro da custodire. Ringraziamo anche i volontari del servizio civile delle Prologo che hanno contribuito a fare questo calendario e che vuole rappresentare un po' la ricchezza anche nel campo pasquale. Attaccamento al territorio è questo ciò che dimostrano le associazioni locali che ogni anno si impegnano per portare avanti le tradizioni, uno sforzo che va sostenuto e sottolineato. Va ringraziata la volontà delle associazioni, delle Prologo locali, comune per comune, che hanno ancora tanto ardore e tanto attaccamento alle tradizioni e al proprio territorio. Stiamo cercando di recuperare attraverso delle forme di accompagnamento diverso, ma è chiaro che avere direttamente la gestione della funzione di promozione culturale, così come era primo, sicuramente ci darebbe una maggiore agilità.